In questo disco Michele e Dio presentiamo tre opere dal carattere profondamente espressivo che fanno parte del repertorio per duopianistico e sono tre opere con tre stili compositivi decisamente diversi tra di loro. Questo progetto discografico vuole cogliere le infinite emozioni dell'esperienza umana presentando tre pezzi dal carattere profondamente diverso ma che esprimono dei sentimenti molto profondi e molto forti. Il primo brano che presentiamo in questo disco, la fantasia di Mozart in fa minore è un brano dal carattere profondamente funebre e enigmatico che rappresenta al meglio quello che era il periodo dell'ultimo Mozart è un brano che ci ha colpito anche per la difficoltà timbrica e sonora alla quale ci si deve adattare per esprimere al meglio la dinamica e l'espressività di questo pezzo. Il secondo brano di questo disco è di Rachmaninoff, la Fantasita Blu opera 5 un brano ispirato a quattro poesie che disegna quattro quadri musicali che sfruttano al meglio le dinamiche e la capacità espressiva dei registri del pianoforte. Il souvenir opera 28 di Samuel Barber scritti nel 54 sono un omaggio ai movimenti del ballo da sala. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La cosa sorprendente è che Eleonora riesce sempre a produrre il suono che io mi aspetterei che io farei io stesso e questa cosa è straordinaria e ci appassiona ed è una delle motivazioni per la quale abbiamo deciso di dedicare la nostra carriera al duopianistico la possibilità di creare insieme il miglior suono possibile è una cosa veramente affascinante grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.